Comincia la rinascita per la piazza simbolo della città. Dopo la riapertura del Gran Caffè, che è diventato letterario, arriva un'altra attività in piazza 20 Settembre a Sulmona, negli ultimi anni incappata, nella più totale desertificazione, e che solo da qualche mese sta tornando ai fasti del passato. Si tratta del ristorante che finora era collocato nei pressi del municipio e ora si sposta nella centralissima piazza dove era situato il Ristorante Italia. Il tema resta quello medievale, che segna l'atmosfera e l'estetica della location, mentre i piatti predibati, oltre ad essere abbinati alla tradizione dell'epoca, promuovono l'enogastronomia del territorio, mediante l'uso dei prodotti tipici. Il nostro obiettivo è quello di ridare vita alla storica piazza, ma anche di sfidare la crisi con i prodotti della zona, spiegano i gestori che stanno per cominciare la nuova avventura. Sì, ridare un po' di vita, esatto. Poi noi comunque il ristorante è a tema, a tema medievale, riproponiamo quindi appunto la cucina abruzzese, con prodotti abruzzesi tipici del posto, e ci auguriamo che appunto questa piazza riabbia il suo movimento, insomma si rianimi un attimo. Mercoledì è prevista l'inaugurazione dell'attività, un segno di speranza a fronte di un bilancio del commercio cittadino che soprattutto nell'ultimo periodo fa acqua da tutte le parti, considerando che continuano a chiudere attività tanto in centro storico quanto negli altri quartieri della città.